La Commissione europea già nel 2021 aveva sollevato la gravità di questo fenomeno e ha invitato gli stati a contrastarlo duramente. Il bullismo tra giovani e persino nei confronti degli insegnanti è diventato uno dei problemi più gravi da affrontare nelle nostre scuole. A Venezia per la giornata regionale dedicata alla memoria e all'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara lo ribadisce, partendo dalla sua circolare e chi ha vietato i cellulari in classe. Ora il cellulare sta o in un cassetto fuori dalla classe oppure sta nella borsa. Poi l'altra cosa importante è aver dato a tutti i docenti e a tutto il personale della scuola la tutela legale dell'avvocatura, perché francamente sono rimasto colpito al caso di Rovigo, questa povera insegnante che è stata presa a pallini e in più si deve pagare le spese legali. Oltre ad un appello alle famiglie, che è il primo luogo in cui inizia l'educazione dei ragazzi, tra Valditara e Zaia c'è convergenza sul fatto che per reprimere il fenomeno a volte uno, due, sette giorni di sospensione di un bullo possono non servire a niente. Prendere i ragazzi colpevoli di aver commesso atti di bullismo e con il contrapasso dantesco mandarli nelle case di riposo a fare attività socialmente utili. Abbiamo 30.000 ricoverati nelle nostre case di riposo, nei centri per disabili, nei luoghi di accoglienza delle donne che hanno subito violenza e quant'altro. Per far capire a questi ragazzi che cos'è la sofferenza e che cos'è anche la mancanza di libertà. La giornata del ricordo delle vittime di mafia è stata commemorata con la proiezione all'Istituto Algarotti di Venezia di uno degli otto docufilm coordinati dalla giornalista Emilia Brandi su chi ha subito e combattuto la violenza delle mafie, un fenomeno sempre più diffuso anche in Veneto. Noi ci costituiamo per legge regionale e come parte civile in tutti i processi per mafia. Mafia, camorra, insomma le grandi infiltrazioni malavitose. E quindi siamo costituiti e sarò il quattro come test e come parte civile ovviamente a portare le ragioni della ragione.